Cara Nunzia, un affettuoso saluto e sono onorata di leggere le due poesie del tuo figliolo e la dedico a tutti i giovani del mondo. Il mio lontano volto, dall'orlo di un burrone, vidi l'universo immerso in lacrime dei miei occhi. Essi si tuffavano allargando il vuoto sottostante. Luce e colori si incontravano nell'acqua rimbalzando con tonfo dando origine a numerosissimi cerchi in cui si specchiava il mio lontano volto. Cammino La luce di un'alba si rispecchiava dentro di me illuminandomi di ricordi. Camminavo lungo colline tra picchi di rocchi e di rupi a strapombo, fino ad arrivare in vetta, così da poter ammirare dall'alto quant'era piccolo il mondo. Vedevo scintillanti sorgenti nella notte che tracciavano il sentiero che portavano a valle. Affondavo i piedi nudi nel tepito terreno guardando il cielo stellato che illuminava gli alberi del bosco. Metamorfesi esistenziale L'uomo L'universo Il pensiero La libertà La natura La vita Spazi congiunti tra loro che legano l'uomo e sono indispensabili e necessari. Tutto deve mutare con urgenza se non vogliamo essere soppressi da una cosa colossale metamorfese essenziale. Desiderio Eccomi ancora, per l'ennesima volta, nel buio della notte, coi soliti pensieri. Rinunciare al mio passato per accettare una nuova identità è un rinnovare, e condursi a un nuovo concepimento. Vorrei essere un relitto, trovato in fondo al mare, e riaffiorare colmo di serenità e voglia di vivere. Il dubbio che si pone è concepito, dal passato che non può tornare a galla, se non dai miei pensieri.